Scusate un attimo, ma quello che state vedendo, ora faremo un breve giro turistico della Sicilia delle vergogne, queste sono le baracche che ancora testimoniano le ferite del terremoto di Messina nel 1908, ci sono ancora 2.500 famiglie che sono in queste condizioni, sono baracche come Petamianto e questa è la risposta che la politica della Sicilia ha saputo dare a queste famiglie, quindi è stato un po' oltre 100 anni in queste condizioni. Venite, entrate! Guardate la Sicilia che non vogliamo, guardate! Quanto persone abitano qua? Ci sono due stanze mediamente, le baracche sono fatte da due stanze, ecco, state entrate in 100 anni di consegnare una casa ai Messinesi, circa ancora 3.000 famiglie che sono in queste condizioni. condizioni. Andiamo nella baracche a piano, questa ovviamente è una suite rispetto alle altre, per farvi rendere conto delle dimensioni e delle condizioni, ecco qui le condizioni, guardate già come è in questa situazione, in questa situazione, entriamo in una stanza, non c'è l'imbarazzo della scelta, sono 3 stanze, magari entriamo nella camera da letto, ecco qua, guardate le condizioni, l'acqua non si respira, naturalmente perché la muffa con questo Ethernet è micidiale, guardate anche il tetto in che condizioni è e ovviamente si vede che scende acqua da tutte le parti e in queste acqua mischiata con l'Ethernet, quindi amianto puro e in estate in queste stanze ovviamente si muore, pensate qua le famiglie con bambini e tutto, da quasi 100 anni in queste condizioni. ...così per completare questo giro della vergogna e naturalmente sappiamo che in questi giorni verrà di tutto e di più, come sempre, però la rivoluzione deve partire ora proprio da qua, proprio dalla rabbia di queste promesse e di questi modi di rubare il voto. Aspetta, aspetta signora, aspetta. ... 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